Se non sei completamente idiota e nasci ricco, farai una vita da ricco. Se sei un genio e nasci povero, farai molta fatica, molta, e avrai bisogno di molta fortuna. Se sei una persona normale e nasci povero, non ti farei illusioni. Non ti stiamo dando gli strumenti per emergere. Non ti diamo, ti diamo una scuola che prepara per essere delle persone che hanno delle abilità e delle competenze, ma non una visione di insieme della realtà. Ti diamo una sanità al minimo, è meglio che non ti ammali. Ti diamo una qualità della vita bassa, che farà il favore di farti bastare. Il neoliberalismo nacque a freddo come arma antisociale, ma fu presentato come un'esplosione di vitalità della società civile. Anzi, nacque allora l'adorazione della società civile e la denigrazione della politica. La vitalità della società civile è la vitalità di ciascuno individuo, imprenditore di se stesso. Sii te stesso, non dare retta a nessuna autorità precostituita, non dare retta alle regole. Vieni, vinci, godi.